Sono Mr. Pescara, sono da Italia, venivo a Dubai 4 anni fa e sono un consultorio per la multinazionalità in Dubai. Ho scelto Dubai perché è buono per il negozio, per la taxa e è un grande centro per il monello e la multinazionalità. Quando ho iniziato la procedura, ho contato FreeZoner e mi mandato un'email per tutto il documento e abbiamo iniziato la procedura con un Zoom call e prendo la signatura. In una settimana i documenti sono stati e mi mandato tutto con DHL. Ho scelto FreeZoner per me e per i miei clienti e ve la raccomando. FreeZoner è un partner solido, preciso e affidabile. Io ho scelto FreeZoner.